A tempi nostri, a tempi miei, quando avevo 18 anni che sono venuta a questo paese mi ho dovuto abituare a camminare con l'asino, con le scarpe, con le centrelle, con i chiodi e la strada che fanno loro adesso, che devono fare, nelle pietre, nelle pozzantre, ma chi è che non trovevamo? E tante volte si scivolava. Gigi, a questi incontri, a questi incontri, bellissima, grazie. Io volevo incontrare delle persone, volevo vedere com'era l'Italia, vera? Ci saranno delle cose che io porterò dentro da questo viaggio, che non saranno mai rivelate. Comunque io la voglio salutare, ho fretta di andarmela. Mi dispiace di lasciarla. Vamo di dare un bacio. Ehi, bacio. Io ci vedo. Tanti auguri è buon bacio. Grazie. 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 Grazie a tutti